Il ruolo della rendita è sicuramente un ruolo molto importante perché si colloca alla fine come l'obiettivo finale della previdenza complementare. Senza rendita non c'è previdenza complementare. E' anche la ragione per cui poi la previdenza complementare ha i suoi vantaggi fiscali, le sue agevolazioni, arrivare a una rendita che sia effettivamente integrativa rispetto a quella di primo pilastro. Oggi magari non la vediamo così, oggi i nostri iscritti tendono a privilegiare la prestazione in forma di capitale anche perché fondamentalmente le prestazioni di primo pilastro sono abbastanza generose ancora. Veniamo ancora con rendite di primo pilastro costruite prevalentemente con retributivo in cui effettivamente non c'è una grossa necessità di integrazione. Con la previdenza complementare del domani, soprattutto per i giovani che sono contributivi, abbiamo una riduzione significativa del tasso di sostituzione e quindi la rendita diventa una necessità, un qualcosa di cui non si potrà fare a meno. Oggi sostanzialmente con i capitali, peraltro, la scelta della rendita è un qualcosa di lasciato alla volontà dell'aderente che può optare per prestazioni in capitale, con possibilità di prendere il capitale in molti casi. Ma la rendita è comunque la prestazione pensionistica vitalizia per eccellenza. È quella a cui i fondi pensione ambiscono, sulla quale costruiscono la propria politica di investimento. I pericoli del fa-de-te sono molto gravi. Il primo pericolo è di utilizzare il capitale, smobilizzandolo parzialmente, periodicamente, ma consumarlo troppo in fretta. E quindi arrivare a un momento in cui siamo ancora vivi, noi pensavamo di avere una speranza di vita più ridotta, ma siamo ancora vivi, abbiamo esaurito tutte le risorse e quindi non abbiamo più come fare, non abbiamo più alternative. L'altro pericolo, un pericolo meno rilevante, è quello di vivere al di sotto delle proprie possibilità, quindi consumare molto di meno rispetto a quello che potremmo permetterci e quindi arrivare alla morte avendo delle risorse. Questo non necessariamente è un fatto negativo, anzi, in genere noi italiani privilegiamo questo desiderio di lasciare qualcosa ai nostri eredi, però ci sono anche delle rendite che ci consentono di vivere al nostro livello, insomma in base alla nostra speranza di vita, ma attivando delle opzioni possiamo comunque lasciare qualcosa ai nostri eredi. Penso alla rendita certa per 5-10 anni attivabile da chi è iscritto al Fondo Solidarietà Veneto, piuttosto che alla reversibile, piuttosto che anche alla rendita controassicurata.